Dovrebbe essere eseguita entro la giornata di sabato l'autopsia sul corpo di Alessio Giannaccari, ventenne leccese rinvenuto senza vita martedì scorso sui binari di una stazione metro di Amsterdam. I genitori, padre imprenditore e madre avvocato sono rientrati a Lecce nelle scorse ore dopo aver raggiunto il luogo della tragedia, originariamente per poter seguire più da vicino le operazioni di ricerca del ragazzo. Del figlio, di fatto, non avevano notizie dallo scorso 16 marzo ed è dalla scomparsa che è scattato l'allarme. Martedì il tragico epilogo ha spento ogni speranza. Il ventenne era in Olanda dall'inizio di quest'anno dove aveva trovato lavoro come cameriere. Una morte, la sua, avvolta nel mistero. Tanto più che soltanto la sim del suo cellulare, intestata al padre, è stata rinvenuta vicino al suo corpo ormai esanime lungo i binari. Del cellulare invece nessuna traccia, neanche nell'appartamento in cui viveva, al cui interno sarebbero stati ritrovati invece portafogli e documenti. Oltre all'esame autoptico saranno effettuati esami tossicologici per valutare lo stato psicofisico della vittima e la prassi in casi come questo. Gli amici intanto continuano a ricordarlo con parole di affetto sui social, continuando a dubitare che possa essersi tolto la vita. Le indagini della polizia olandese proseguono, nessuna pista al momento è ancora esclusa.